La Virtus vittoria fa entrare in scena oggi la Ciraolo che sembra avere fugato ogni dubbio circa la sua condizione fisica dopo l'infortunio che l'ha tenuta lontano dai campi di gioco. Gli Open femminili a vittoria procedono dunque a passo spedito e la semifinale di oggi tra l'atleta Virtusina e la Porchia è sicuramente il piatto forte della giornata. L'altra griglia vede invece di fronte Brancato contro la Maltese Genovese e si è arrivati a questi accoppiamenti dopo che ieri i quarti avevano dato degli esiti abbastanza scontati. Genovese ha infatti superato Napolitano per 6-3-6-4, Brancato ha superato Occhipinti per 6-3-6-0 e Porchia ha comunque faticato per mettere sotto l'opumo finale in questo quattro caso 6-6-0-7-5. Questi dunque i risultati di ieri nel contesto di un torneo che sta confermandosi di eccellente livello e la qualità tra l'altro dell'atleta lo ha confermato. Così come c'è anche la conferma che in città il tennis è molto seguito e in questi giorni gli appassionati non fanno mancare la loro presenza.